allora ho portato mia suocera a fare il tampone qua vicino all'ospedale che si chiama coeliche e qui siamo passiamo davanti a quello che una volta era il comunale e adesso è lo stadio del toro non so se si vede bene qui una volta c'era il combi adesso hanno fatto altre cose qui c'era il campo combi qui hanno scritto cuore granata io sto attraversando via filadelfia che è proprio invece dove c'era la curva della juve cuore granata il cazzo stadio del comune di torino che non è di questi di questi morti di fame adesso si chiama grande torino ma questo è lo stadio del del comune di torino vecchio stadio comunale faccio ancora un giro a tanto mia mia suocera è dentro l'ospedale vediamo se riesco a riprendervi il punto esatto allora questa è via filadelfia e questa era la curva dove giocava la juventus qui venivano i giocatori qui a questo posto qua c'era il campo combi rosetta caligaris abbreviato per tutto combi non mi posso fermare perché divieto di sosta e di fermata ci sono anche le telecamere praticamente i giocatori venivano qui qua proprio qui in questo punto andavo posteggiavano le macchine qui dentro andavano a cambiarsi c'è un ritardato che non mi sorpassa andavano a cambiarsi e poi attraversavano questa strada c'erano degli attraversamenti pedonali per andare da questo lato qua che era il campo di allenamento adesso non mi posso fermare non ci sono neanche gli attraversamenti pedonali e qui praticamente su questa strada io avevo tipo dieci anni stavo appunto attraversando seguendo zoff praticamente uno è passato e ha rischiato di stirare noi e zoff compreso poi zoff gli urlò dietro a questo qui gliene urlò di cotte di crude questo scappo con la macchina